Dunque penso che l'Italia debba dire chiaramente all'Europa noi vogliamo uscire dall'euro e se pensate che questo sia un problema per l'euro allora convinceteci a rimanere invertiamo l'onere della prova perché all'euro serve l'Italia molto più di quanto all'Italia serve l'euro e se per questo diranno che siamo populisti e chi se ne frega? Meglio populisti che servi! E sull'euro lei lo considera irreversibile? Io penso che l'euro sia una moneta non credo che l'Italia debba uscire dall'euro e penso che l'euro andrà avanti Quindi Giorgia Meloni, capo del governo, non chiederebbe di uscire dall'euro? Io non ho mai chiesto di uscire dall'euro io non ho mai chiesto di uscire dall'euro per la precisione